Amici, benvenuti in questo nuovo video di Samplay096, io sono Papi e lei è Samuele, oggi gioveremo a un gioco terrificante, come si chiama? Leggete, Ice Cream 6 Fress, finalmente mi ricordo quella volta che avevo fatto il 5, non c'erano io, ma sono io, e quindi penso che abbiamo la risoluzione di questo gioco, vi farò vedere come si risolve il gioco. Gennà 1983, si possono ancora ragazzi, non lo so che ci metterò più di quelli che sicuramente, perché è difficile, so che è difficile, però l'ho visto milioni di volte, Ieri c'era, ieri pranzo stamattina, ma non si può schippare, sticca, si, e vediamo, questo è Charlie, abbiamo trovato Charlie, si, è stufa, allora ce l'ho pensato. Andiamo, ora viene la signorina Mais, ecco qua, la signorina Mais, come si chiama? Mati si chiama? Signorina Mais? Sì. Sarà Matilda, Mati? Matilda, sì. E dato che è inglese, vabbè, credo che mi servirà un piano. So esattamente come si gioca. Con un modo per comunicarti con Jay e riunirci con i tuoi amici. Vediamo. Allora, possiamo muoverci tranquillamente, tanto siamo del da fantasma, quindi guardala che schifo. Nemmeno Mini Rod, guardalo. Non siamo del da fantasma. Non è da fantasma. Non è da fantasma. Non è da fantasma, non è da fantasma, sì. È easy. Yes. Non ti preoccupare, più facile di quello che ti pensi. Però ora dobbiamo trovare i pezzi per metterli qua. I pezzi della testa di Mini Rod. Ora abbiamo trovato già uno. Oh, che fortuna. Questo che pezzo è? Sinistro o destra? Sinistra o destra? Sinistra, ha detto. Sinistra. Sì, perché punta di là, verso di là, come sinistra, sì. Perché? Ecco qua. Uno l'abbiamo messo. L'altro pezzo dove sarà? No, è dopo. Perché? Non è lì, che lo sono meglio. Perché sta porta... No. No. Ma, ma, ma non mi dire che non mi fa aprire nessuna portata. Ammazzo? Non ti faccio più alzare. Sta porta si apre. Guarda, roba, ci possiamo nascondere per una volta di sta qualcosa? Niente. Niente. Credo che il pezzo di destra sia un po' impossibile da trovare. Perché la sinistra è stata easy. La destra è qua. Allora. Io sono... Ma io lo so come si gioca. Matti è di nuovo qua. Ne lancia le palle di crema. Sta facendo. Allora, mi ricordo che dovevamo prendere la maschera di Minirod per entrare in quella porta. Se mi trovo la stanza è una gentilezza. Se non la trovo mi ammazzo e faccio quello che ho detto prima. Ma... Non ce ne sa nemmeno il pezzo di destra. E a volte sta qua il pezzo di destra. No. Ecco qua. Qua si doveva la maschera di Minirod. Questa è una macchina. Io so il pezzo di Minirod. Questa. Blu. Perfetto. Prima l'abbiamo fatto. Ora rosso, verde, rosso. Rosso. Verde. Rosso. Ora blu, rosso, rosso. Blu. Rosso. Rosso. Perfetto. Rosso, rosso. No, allora verde, verde, rosso. Il verde e il giallo sono i più fatti perché stanno nei lati. È perfetto. È vero? Sì. No, ce ne sono altri milioni. Blu. Giallo. Vapore. Blu. Ma perché è? Blu. Giallo. Rosso. Perfetto. Lo so. Blu, giallo, rosso. Non c'è il tempo. È vero? Blu. Giallo. E porca. C'è il tempo. Fallo. Allora, facciamo così, guarda, si deve ripetere il tempo. Ti devi premere questo. Questo. Non è difficile. Devi stoppare ogni volta, se non sai nemmeno giocare. Ma qui si stoppa? Sì. Sì. Aspetta, che viene la parola e sopra. Ehi, poi. Poi. Verde. Rosso, verde. Rosso. E verde. Ok, poi. Vado in via per fare più presto. Blu. Aspetta. Vado in via per fare più presto. Blu. E rosso. Ah, cinque volte si deve fare, vedi? Quindi, giallo, rosso, verde. Giallo. Rosso. E verde. Guarda, è grosso. Guarda, ultimo. Blu. Verde. E blu. Finito. No. Com'è? E prova che non posso riferire il tempo. Verde. Ah, se ne fai anche questi. Dieci, ma è impossibile, fammi dieci. Allora, rosso, blu e blu. Questa è facile. Mancano solo tre. Verde, verde. Verde. E verde. Anche nuvoi. Blu. Giallo. E blu. Siete secondi che era l'ultimo. Blu. Giallo. E verde. Quando mancavano solo due secondi. Aspettiamo che esci. Tiè. Sono fatta. Mamma mia, quando mancavano solo due secondi. Vado, prendi. Sì. Mamma mia, mancavano solo due secondi. Ci hanno fatto proprio il giusto della cuffia. Ora c'è quella maschera di mini rod. Eccola qua. Ora dovevo trovare quella porta che diceva di... Perché là ci possono massare soltanto gelata, hai capito? E quindi lui... Ma quella prima non c'è arriva. Eh... Con la porta di prima, se la trovo. Ma queste le porte saranno solo quando c'è la manina vicina. Non stanno altro, chi non ha visto la credenza. Dopo. Qua dovrebbe stare. No. Sono completamente perso. Dove stavo con la porta? Era qua, perché la porta è aperta. Pure l'aperta rod. Ecco qua. Mi spiace. Putta sta maschera. Ah, qua dobbiamo trovare il calzino bucato. Questo è in questo cesto? No, ci devono stare in molti. Ci devono stare in molti cesti. Tipo in Ascrim. Ehm... che vuole trovare quel codice all'interno di quei cesti. Un altro cesto. Questo non è mica l'ultimo. Ce ne stanno altri. Il calzino bucato. Dobbiamo inguagliare la torta. Insomma, la... Si, rovinare la torta che ha fatto Mita. Che ha fatto Mata. Maki. Allora, dove sta? Ecco qua. Perfetto. E' spensato inguagliato. Ah, voglio dire a... Come? A rovinare. Ora dobbiamo trovare il secondo pezzo. La faccia che andava là vicino? Si. Così, così. Qua non ci sono mai andato. Ci sono andati. Mi li porta di qua. Ah, no, là ce l'ha. Qua vicino, questo è qua. Non chiude... Sì, però, se Rod li chiude, non è mica colpa mia. Lui da lì, va bene. Sì, tu lascia una volta che è in un caso perché non l'abbiamo già vista. Che fa? Un infarto che per ora Rod non è nemmeno venuto. Dove sta? Dove sta? C'è anche il secondo pezzo. Ma guarda che sto scemo la chiude. No. Mi nero di affano. Ce ne sta un altro. Che è stato il secondo pezzo? Qua devo ancora aprire. Eccolo. Non è quello. Ma che stai dicendo? Una pentola, eh? Non è una pentola. Non ci serve. No. Ma come l'ho già aperto? Sto tornando a chiudere. E li chiude. Non lo riesco a trovare. Allora. Allora. Voi a trovare sto dannato pezzo che non sono uscito a trovare. Non lo riesco a stare a me, non l'ho già visto. Tipo qua saranno la favore. Che l'annata ha chiuso non riguarda roba. Ha chiuso pure questo. Mi so che ho visto sono i biletti qua. Sì. Ho biletti sulla destra. Allora, stavo dicendo che non riesco a trovare sto pezzo. La schiena che sei. E mi ricordo una parte dove stava. Se non l'ammazzo tutto e non ci sta. Allora, non mi ricordo molto bene la strada. Mi pare. Che ti stavo dicendo da tutto il tempo? Questo che cos'è? Vai, trovata. Perfetto. Porca è da mille anni che sono passate qua e ne manco l'ho visto. Quanto sono scemo. Perché gli armadi penso che non c'è mai niente. E questo è una buona? Questa è la strada dove prima abbiamo fatto il minigioco della maschera, il mini rod. Non dobbiamo riavare da quella parte. Sta succhiando. Allora, dobbiamo andare. Dobbiamo messo il pezzo di sinistra. Di s. Quindi è sbattato questa porta. Allora, qui dentro mi pare che non c'era niente. Cos'è quello che dobbiamo fare? Per ora, in questi casi sono tenuti di controllo perché ci sta niente. Questa stanza l'abbiamo aperta per dopo. Ora dobbiamo ritornare là. Dove stava il disegno del telefono? Ecco qua. Vai col telefono. E stai chiamando ora? Jay. Allora. Sto fucile non serve a niente. Però Rod per ora non c'è. Questo sembra solo se esce Rod. Sì. Sto fucile non serve. Allora. Interessante. Sì, mi ricordo che ci stavano varie cose da dare a Mike. E lui ci può fare... E lui ci può costruire... Allora, stavo dicendo che ci dobbiamo ficcare qua dentro. Perché io mi ricordo che c'era una leva nascosta sotto a questo quadro. Semin... Ah, è vero se dobbiamo trovare tutte le carte. Questa ci pensiamo dopo. Le va qui. Le va. Grazie. Sì, allora, dobbiamo trovare una specie di coltello che mi ricordo dove sta e un nastro adesivo. Il nastro adesivo dove va stare da queste parti qua. Qui non ci sta. Quindi deve stare qua. Una città. Qui si sta qua di nuovo. Quindi deve stare qua. Quindi deve stare qua. Una città qua. Non so dove si hanno fatto rifinare. Eccolo qua. Un nastro. Lo dobbiamo dare a Mike. Poi troviamo anche la forcina. Che ne so anche dove sta. E poi troviamo il pezzo di metallo. E ci dà il lockpick. Allora. Mattio. Che non si faceva? Perché non mi fa parlare con Mike? Forse solo col fucile si può parlare. C'è. Allora. Per aprire prima gli oggetti. E poi parliamo. Che non ce l'avevano in un altro giusto? Sì. Eccolo qua. Adesso è lui il vostro. Erodo. E se ne pare una città? Perché. Ci stanno due casette da tre qui. Se abbiamo forse una notte da ora. No. Ci pareva. A che sì. Ci pareva che non lo trovavamo al primo. Se non è qui sotto un'altra idea di vedere stare. E' sotto un'altra casca. Sì. Era una lima. Una lima sta più amante. Ora si rimane da prenderci forza il peggio di metallo. Se questo si leva. 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 Il pezzo di metallo si doveva trovare qua. La lima sta più amante. Leva. se non è qua c'è da un'altra parte eccolo qua se ci fa parlare con mike è fortuna se no ci vediamo un attimo il video oppure forse mi devo dare una penna per scherigliere non so qualche mese andava sopra e mi parlava subito senza altri problemi come noi tutti gli oggetti c'erano se qua ancora mi fa parlare ci facciamo come stai questa bomba non abbiamo capito una cosa io dobbiamo trovare il quadro per fare una cosa ma te lo faccio vedere non so se capi esattamente cosa se ho capito bene bisogna trovare qui tre quadri per poi poter avviare con la mano quella che dice si ah questo non è un quadro che ci serve questo? yes no no era questa non me lo puoi prendere non me lo puoi prendere come lo hai visto eh eh non era quello questo allora ecco qua questo ne era uno eh oh questo è quello che ci serviva no per prendere la manovella e l'ho sempre vicino a quella nota sì eccola qui c'è bene non c'è data la manovella capite li devi prendere tutti e tre ecco il terzo che arriva la manovella no eh no che 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 qual'è la combinazione qui non so lo so è forse sì dovevo mettere la manovella vicino a quella cosa dai a vedere gli altri ma devi trovare questo quadro qui ah ho capito si devono trovare tutti i quadri esatto al terzo ti dà la manovella che poi attiverà quel generatore vicino alla moto sì allora attivo con questo stavo dicendo che devo trovare il quadro uguale a questo e ci fa sbloccare un altro no non mi ricordo dove sta però posso stavo fare qua posso stavo fare qua ma non non ma non ma non cosa ha il quadro quello? no non è adatto a nessun quadro non è un quadro? chi si trova? chi si trova? trovi il quadro ci sono il gioco incompleto non ho messo il quadro pure questo deve vedere un'altra cosa ma questo a che serve? io andavo vicino a compilità non l'ho fatta voi e no non ti fa premere questo risultato no non mi fa premere non voglio morre Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non c'era una chiave? Io lo sapevo che serve un lockpick perché non ho visto il video. Anche se vedete mi sono scordato. Non so nemmeno come ho fatto a parlarci con quello. Non ditemi niente. La manovella mi sa che si trova dove stiamo per rompere, attraverso l'acqua. Perché se non è attraverso l'acqua. Io non mi ricordo a che serve aprire. Questo però lo scopriremo. Aspettare, volviamo. Ah, la leva. Ok, non mi ricordo meno la leva a che serve. Perfetto, siamo a posto. Allora, la leva mi pare che serviva per... Forse ora possiamo vedere le cose nei quadri? È stata una cosa a parlare con Mike, non so nemmeno come ho fatto, ma non ho capito che cosa è stata a tirare la leva. Ma forse l'ho capito. Sì, ho capito. Ora ci vuole un'ora per fare quello perfetto. Se abbiamo avuto un'idea giusta, abbiamo capito una cosa. Con il fosti che abbiamo trovato prima, c'è anche la stessa cosa del tappeto. Si deve mettere davanti alla venta del garage. Se è una cosa giusta, se no non ho capito come si fa. E lì sotto, se ci sta un altro indizio, mi arrabbio che dobbiamo rifare l'altro. Dopo farlo un altro. Se no, sta la manovella, sono più contento. Vedi, non si può fare. E questo qua è il disegno che ti fa vedere. Un altro sta qui. Oh sì. Eccolo, hai visto? Ancora un altro. Questo è il cartello che avevo trovato prima. E questo l'abbiamo visto prima, non sappiamo. Di questa no? Sì. E questo qua mi sa che ci dà la manovella. Io penso sì, di quel terzo. Quindi non intendeva il tappeto, intendeva il quadro. Però mi ha indominato. Ma sì. Però, per il capito quanto si era realizzato. Non avevo scelto dove è. Che astuto. Ora questo mi ricordo io dove sta. Però... Allora... Stavo dicendo che questo aveva visto dove stava. Però non mi ricordo dove sta. Ecco qua, dove sta qua. Sì, eccolo qua. Yes! Ah, finalmente questa maledetta manovella. Con colpa di quel posti. Non mi ha fatto capire niente. Vabbè, stava qua vicino il reattore, eh? No, non si doveva mettere nel reattore. Si doveva mettere... Nella moto, ho visto. Ma cosa diceva? Sì, nella moto, nel confronto della moto doveva mettere. Se non lo troviamo... Sarà qui vicino. No, non sta qua. Qua c'era ancora il front, meno che... Eccolo qua. Quel cos'è ancora il front, meno che se era caduto. Non nemmeno come si chiama. Ok, poi vai a girare. Ora mi ricordo cosa devi fare dopo questo. Allora, si deve attivare questo telecomando. Poi, si deve andare a chiamare... Come si chiama? No, Mike, ci abbiamo... Charlie. Vi sto per un attimo a Rod. Non so se me lo sono sognato. Sì, me lo sono sognato. Bravo. Però quella cosa che era afficcicato là, non me l'aspettavo. Quel posti, quel foggi, cosa c'è scritto. Ora so tutto di quello che si deve fare. Mi ha sbagliato anche Porta. Perché devo fare le cose? Perché abbiamo quasi finito il gioco. Allora, dovevamo chiamare Charlie, prendere l'ingrediente per rovinare la pasta. Allora, non ce ne stanno altri due. E poi dobbiamo trovare le uova guaste. Allora, ancora Mati. Dobbiamo farla svenire, Mati. E ci dà la chiave per uscire. Allora, non la chiave per andare da Jay. Allora, prima qua c'è un rucchetto rosso e chiuso, ora c'è un rucchetto verde aperto. La leva ci serve proprio questo. Perfetto. Ora, questo è una tringua di dente per rovinare la zuppa. Se mi ricordo dove cavolo si deve mettere. Bravo, mescola. Qua si va a mettere... Qua? No. Allora, qua. Sì, qua. Sì, qua. Perfetto. Ora... Ho avvenuto la farina? Sì, ora c'era una stanza dove c'era un sacco di scatole di uova. E noi dovevamo vedere... Dovevamo aprire le putze. Però il putte che non mi ricordo dove sta sta stanza. Lui stava la stanza... Su questa. No. Era questa. Mi ricordo che era vicino alla cucina sempre. Questa, questa, questa... Dispenza. Era qua. Attraverso qua. Sì, ora abbiamo aprire le scatole di tutte le uova. Al primo colpo abbiamo trovato le uova scadute. Che schifo. Al primo colpo. Guarda perché tutte le altre sono chiuse e non le abbiamo trovate a primo colpo, raga. Ma lasciate un like per averle trovate a primo colpo. Cioè, guarda, tutte... Tutte le scatole erano chiuse e abbiamo colpo. Apriamo solo l'ultimo colpo e due. Che ti apri a fare? Abbiamo trovato quello giusto. Vabbè, allora. E ora le dobbiamo mettere nella zuppa. Qua dentro. No. Quest'anno le uova, insomma. Ci devono mettere qua, nella... No, qua, allora, no, allora... Ci devono mettere le uova. Sono scordato la cosa della fine. No, non mi dire. Non mi dire. Forse le dobbiamo mettere qua. Qualche parte. Ti sta pentando qua solo. No, perché... Forse qua. No. No, si deve mettere su... Parte. Mi pare che si vanno a mettere una cesta di uova. Qua. No. Qua, forse. No. Che cavolo si deve mettere? No. No. Questo è il trevento da vicino? Dove? Mi sono messo alluminato una di destra, questo piccolino. Quale? Mi sono messo alluminato, ma mi sono messo alluminato solo, no? No, assolutamente no. No. Di qui? No. Mi sono messo alluminato. Di qui? 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 Qua? No. Prova a trovare un tavolo di uova. Ah, forse ho capito dove le hanno messe. Però non mi ricordo la strada. Beh, le trovarono al butte di arrivarci. Qua? Ma sto qua, sto qui. Qua? Sta l'altro. Non la trovo. Allora, si devono mettere dove l'avevo visto prima. Però ci sa un'altra cosa qua. Eccolo qua, il cesto di uova. Ora, dobbiamo semplicemente tornare nella sala principale. Da aspettare che Matti viene qua a bere. Poi prima che si viazi, dobbiamo prendere la chiave della cucina, abbiamo finito. M'è il mio Dio, adesso lo va a fare la venire. Questa marea. Non ce ne vuoi tirare. No. Il massimo di questa. Il massimo di un po'. Eccolo qua. M'esco, m'esco, m'esco. M'esco. vieni qua vieni qua aspetto qua sta venendo guarda c'è la qua la vedi la chiave però anche se mi fantasma non la posso prendere guarda bene chiave della cucina si in questo caso dobbiamo trovare la camera allora dobbiamo soltanto trovare la porta era questa no questa non si può aprire questa no teleporte che trovo devo aprire magari ci sta quella questo qua questo qua è questa è l'ultima porta e ora e ora vai finito ottimo ragazzi risolto abbiamo liberato il nostro amico quindi siamo tutti felici e contenti però dobbiamo trovare l'ultimo no ok ragazzi aspettiamo che creeranno il nuovo nel frattempo se questo vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale metteteci un bel like perché stavolta è stata veramente dura un bacio da papi ciao al prossimo video ciao